Solo due o tre anni fa il sistema dei parchi rischiava di sparire. Oggi, per quanto complicato e difficile, si cerca di proteggerli sempre più e riqualificarli per dar voce a ciò che è una delle nostre ricchezze più grandi a livello nazionale. I quattro parchi lucani si uniscono per dar voce alle criticità e risalta tutto ciò che di buono hanno portato in questi anni. I concetti di biodiversità e di fare sistema sono stati espressi in una conferenza stampa presieduta dal presidente di Federparchi regionale Domenico Todaro e da cui hanno partecipato anche i presidenti del Parco del Pollino, Gallipoli Cognato, Dolomiti Lucani e Murgia Materana. Conferenza in cui hanno chiesto alla nuova giunta di contare di più in un sistema anche di fondi, di poter avere voce in capitolo a livello istituzionale e di trovare soluzioni condivise per garantire la sicurezza dei residenti nei parchi e contribuire allo sgruppo economico della regione.